Musica Continuano le segnalazioni dei cittadini torresi alla redazione di TV City. Dopo Via del Clero, nell'occhio del ciclone per problemi di pulizia e sicurezza mai risolti, questa mattina siamo state con le nostre telecamere a Via Martiri d'Africa, Via del Cammeo, e nella zona di salita dell'Annunciazione, dove i residenti attendono da tempo il diserbo, tanto che insieme all'erba sono comparsi anche i fiori. Diserbo finalmente partito già in altre zone della città, lentamente dunque si sta provvedendo alla pulizia delle strade, dal centro alla periferia e a tagliare le erbacce, che da mesi e mesi invadono i marciapiedi, rendendoli impraticabili, e adesso che è arrivato il caldo, i disagi sono legati anche al proliferare degli insetti. Tanti i commenti sui social e le richieste d'intervento alla nuova ditta e all'amministrazione comunale. Inutile pensare a piani di rilancio se non si provvede prima alla pulizia, la voce dei cittadini è unanime. Intanto funziona a regime il centro della Santissima Trinità, regolarmente aperto per il deposito degli ingombranti, tutti i giorni, compreso il sabato, dalle 8 alle 16.